Procambolesco pareggio nel recupero disputato al partenere di Avellino tra i padroni di casa e la Turris. La partita, valevole per la prima giornata di campionato, fu sospesa al nono minuto dopo che un nubifragio si era abbattuto sul capologo irpino, costringendo l'abito a far rientrare le squadre negli spogliatoi. L'Avellino parte meglio e trova il vantaggio con un gol di Sant'Agnello, abile a ribadire in rete il pallone che era finito sul palo dopo il tiro di D'Angelo. I Coralini si riversano in avanti alla ricerca del pari ma le occasioni non vengono concretizzate. Nella ripresa del primo colpo di scena, dopo pochi minuti, con gli Irpini costretti a sostituire l'infortunato portiere forte, ma intorno alla mezz'ora Tito trova sul suo tiro una sfortunata deviazione della difesa e realizza il raddoppio che sembra chiudere i giochi in favore dell'Avellino. Partita finita, ma che? Subito dopo il gol, Biancoverdi resta in dieci per l'espulsione di Maniero e la Turris immediatamente ne approfitta, accorciando le distanze con un perentorio colpo di testa di Persano e in pieno recupero arriva addirittura il pareggio con Romano che infila in rete dopo l'uscita a vuoto del portiere. Un pareggio che riscatta la brutta partita precedente e che permette ai Coralini di restare nelle zone nobili della classifica. Prossimo impegno in trasferta contro la Casertana.